28 euro e 99 centesimi il prezzo di questo prodotto ma è anche il motivo purtroppo per il quale secondo me non è particolarmente all'altezza ve lo voglio far vedere per bene trucco cartone ecco qua il dietro le quinte ma vediamo un po come funziona il tutto si tratta di un insieme di tondini di alluminio imbullonati vi faccio vedere i bulloni su questa piastra alta due dita circolare con i bordi su cui appunto si innestano i bulloni sono bulloni veri e propri nel senso che infilando la mano lì dentro si riesce a svitare il bullone eventualmente anche per sostituirlo non so bene quale sia il gancetto qua di testa che ha fatto girare le scatole quanto basta uno di questi ha vagato all'infinito poi ho cercato di incollarlo un po come riuscivo per farlo star fermo ma questi tappetti finali non sono parte integrante ve lo faccio vedere di qua così non abbiamo il sole contro non sono parte integrante della struttura in alluminio ma sono dei tappi veri e propri di plastica che vengono applicati alla fine della parte in alluminio buona parte di questi sono ben agganciati alcuni sono messi veramente male e saltano via come se niente fosse appunto hanno fatto girare le scatole per un pochetto forse è lui quello diabolico adesso avendolo incollato dovrebbe dovrebbe restare con un questo sia comunque come funziona da questo tubo al portaverdura beh bisogna mettersi lì a inclinare tutte le bacchette e facendo questa operazione su tutti i tubi alla fine il risultato sarà che si avrà l'effetto che vedete nella scheda del prodotto effetto che io francamente mi aspettavo essere un po più stabile nel senso che credevo che sarebbe intanto lo sto muovendo per farvi vedere ci vuole un attimino di tempo mi aspettavo che sarebbe stata una cosa un po più fissa e non da montare in questa maniera non da modellare ecco all'occorrenza in questa maniera vedendolo chiuso questo prodotto mi sono un po ricreduto sulla qualità che poteva avere in realtà lo sto facendo dal lato sbagliato per cui devo rifarlo al contrario e centimetro per centimetro forse millimetro per millimetro andando a smuovere questi tubi beh ecco si inizia a inclinare il tutto poi può essere un po più aperto un po meno aperto e questo permette di avere appunto un cesto più grande un cesto più piccolo sviluppato un po più in verticale sviluppato un po più in orizzontale in base a quello che si vuole ottenere come risultato finale poi lo vedete che quando una parte inizia a sbloccarsi a catena anche le altre prendono una forma diversa e la forma complessiva inizia a venire fuori questa è la versione un po più contenuta in termini di spazio volendo si può insistere ancora e allargare ulteriormente le dimensioni di questo cesto fatto sta che lasciatemi dire 28 euro per questo insieme di tubi mi sembra un po esagerato la stabilità non è ottima perché lo vedete alcuni appoggiano altri non appoggiano qui sotto per cui non è che sia il massimo ma soprattutto la qualità di questi tubi in alluminio con i fondi in acciaio e imbullonate tutte le parti beh non è che mi abbia lasciato particolarmente ben sorpreso tanto da invogliarmi all'acquisto di un prodotto di questo genere mi aspettavo una cosa un po più massiccia un po più stabile un po più solida un po più raffinata con questo alluminio così di sembra quasi plastica sembra di scarsa qualità non sono rimasto positivamente colpito da questo prodotto devo essere sincero mi aspettavo sia un qualcosa di design ma di una qualità più elevata Grazie a tutti